Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo, oggi siamo tornati in un nuovo video. Oggi comincia la serie A, dovrebbe cominciare a breve, fra circa qualche ora, per voi ovviamente, per me qualche giorno purtroppo. E quest'oggi andremo a vedere insieme la classifica della serie A secondo il mio parere, il mio pronostico per la classifica di serie A. Ci muniamo sempre del mio telefono, del mio secondo telefono, sono ricchissimo, assolutamente, e partiamo subito con la classifica. Io direi di dire subito le tre retrocesse a mio parere, Lecce, Verona e Udinese. Lecce e Verona penso siano le due più scarse del campionato, assolutamente, il Brescia è salito in Serie A e si è potenziato molto, Le squadre di Serie A stanno facendo un buon mercato, a dir la verità, e penso che Lecce e Verona siano quelle più indietro. Il Lecce ha preso la Padula, unico calciatore veramente di qualità, ma che qualità. Il Verona non ha comprato nessun calciatore che comunque conosce la Serie A, ha pazzini già da qualche anno, però per me spartono molto indietro e saranno le ultime due. Poi, diciottesimo, Udinese. L'Udinese penso che sia quella un po' più indietro in confronto alle altre squadre. Non mi piace a me l'Udinese, lo scorso anno la vedevo non retrocessa, quest'anno invece me la sento retrocessa, non so il perché, ma la sento così. Diciassettesimo, di nuovo, il Genoa, come lo scorso anno. Il Genoa è una squadra che fa tanti guai, quest'anno ha Pinamonti, Pinamonti potrebbe salvagli la metà della stagione e poi essere ceduto come Piontech, quindi non mi aspetto niente di che dal Genoa. Il sedicesimo, la Spal. La Spal è una buona squadra, però non fa mai più di tanto, fa sempre il compitino, la salvezza giusta fino all'ultimo, e io direi che è una posizione giusta per la Spal, anche se comunque è una buona squadra. Quindicesimo, il Parma. Il Parma ha anche una buona squadra, molto molto forte la squadra del Parma, però comunque le squadre sono quelle, quindi basta una salvezza per il Parma e va bene così. Al quartodicesimo, il Sassuolo, il Sassuolo di Ciccio, Caputo e Berardi, per me arriverà quattordicesimo, forse arriverà quindicesimo il Parma quattordicesimo, le vedo tutti e due là. Al tredicesimo posto, il Bologna, il Bologna che perde un Mihailovic importantissimo, per me, forse con Mihailovic il Bologna avrebbe potuto puntare a qualcosa in più, magari un decimo posto, perché comunque Mihailovic dà qualità alla squadra, però l'allenatore che fa tutto il lavoro, ma ci sono anche dei calciatori che comunque hanno qualità e potrebbero guadagnare una salvezza sicura. Al dodicesimo posto, il Brescia, il Brescia che ha fatto un ottimo mercato acquistando Super Mario Balotelli, tenendo Sandro Tonali e comunque facendo qualche accorgimento qua e là, il Brescia è davvero un'ottima squadra. All'undicesimo posto troviamo la Fiorentina che risale dopo la disfatta dello scorso anno, per me più di questo non do alla Fiorentina, ha comunque una squadra di basso livello a mio parere, perché ci sono molti calciatori davvero inguardabili e comunque sono stati fatti pochi cambiamenti in confronto allo scorso anno e penso che non valgano più dell'undicesimo posto. Al decimo posto la Sampdoria, la Sampdoria che ritrova il decimo posto, per me sarà un'altra stagione del genere per la Sampdoria dove punterà in alto ma non riuscirà ad arrivare. Avete visto che manca una squadra, manca la squadra del mio amico Miro, il Cagliari, non ho posto per il Cagliari. Ragazzi, il Cagliari ha fatto un mercato che ve lo giuro, io non so se è arrivato De Frel quando state vedendo questo video o se è arrivato un altro attaccante ma già se prendeva De Frel, c'è una squadra della madonna al Cagliari secondo me e per me può puntare al nono posto ma non di più ovviamente. Le otto squadre sono le stesse dello scorso anno, ve le dico velocemente. Ottavo posto Torino, Torino che trova di nuovo l'ottavo posto, no, quest'anno ha trovato il settimo però non è andato in Europa League. Trova quest'anno l'ottavo posto, purtroppo sarà un peccato, io spero di no, spero di sbagliarvi però l'ottavo posto per il Torino, settimo per la Lazio che torna in Europa League così come la Roma al sesto posto. Saranno due, diciamo, conferme ma allo stesso tempo, come posso dire, delusioni perché da loro ci si aspetta sempre qualcosa in più ma forse io alla Roma addirittura la vedo settima o ottava, non vorrei dire queste cose però comunque è sempre la Roma al sesto posto ma quest'anno a me non piace proprio. Al quinto metto l'Atalanta, l'Atalanta che l'anno scorso ha fatto un miracolo, è una squadra molto molto forte però quest'anno avendo proprio la Champions farà un pochino di fatica in campionato ma ovviamente un quinto posto è sempre molto buono. Al quarto metto il Milan. Non lo so, me la sento così, per me il Milan arriverà a quarto posto, arriverà finalmente in Champions League il Milan così come i cugini dell'Inter che hanno due squadre molto buone, il Milan un po' meno dell'Inter però del Milan mi fido di Giampaolo, è un allenatore che comunque sai il fatto suo mentre l'Inter ha Antonio Conte, ha dei campioni, l'Inter per me sarà una delle favorite per lo scudetto insieme a secondo posto, Juventus. L'ho fatto di nuovo, l'ho fatto di nuovo, terzo anno di fila che non metto la Juve prima io, ve l'ho detto anche lo scorso anno, io non la metto per pronostico, la metto per scaramanzia cioè è più forte di me ma io ho messo al primo posto il Napoli, lo scorso anno mi si è al primo posto l'Inter due anni fa mi si è al primo posto il Napoli, quest'anno rimetto l'Inter e rimetto il Napoli ragazzi è più forte di me, la Juve non può vincere sempre io spero anche che vincano la Champions League, la Coppa Italia ma non possono vincere sempre lo scudetto, prima o poi qualcuno deve vincere e quest'anno io sono fiducioso perché il Napoli sta facendo un grande mercato e spero davvero che riusciamo a portare a casa questo scudetto ragazzi questa per me è la formazione, è la formazione, è la classifica io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non lo siete già io vi saluto e vi ricordo di lasciare un mi piace, già l'ho detto buona serie a tutti, speriamo che sia un grandissimo campionato anche quest'anno anzi soprattutto quest'anno che ci sono tantissimi calciatori forti io vi saluto e vi ricordo che non c'è nessun problema perché è tutto sotto controllo bella